Buon pomeriggio, buona domenica da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 15 Parma la Spezia sono due chilometri di coda tra Berceto e Pontremoli, ci sono lavori e quindi traffico intenso in direzione la Spezia. Traffico rallentato in A1 tra il BV A1 con Planare, Firenze Nord e il BV A1 variante di Valico in direzione di Bologna. Ci sono lavori sulla Firenze, Pisa-Rivorno, Trempoli-Ovest e Santa Croce sull'Arno in direzione Livorno. Torniamo in A1, c'è un'auto ferma tra Rioveggio e Pian del Voglio in direzione Firenze. Passiamo ai treni estranei sulla linea Livorno, ci sono alcuni aggiornamenti, il 18308 Grosseto Firenze-Santa Maria Novella viaggia con 18 minuti di ritardo, 20 minuti di ritardo per il 18297 Firenze-Santa Maria Novella-Livorno. Non ci sono ulteriori aggiornamenti al momento, muoversi in Toscana in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Grazie a tutti. Grazie a tutti.